Forse domani, forse tra un anno, forse mai. ...un pulito insuperabile ed una brillantezza fantastica. Nuovo Finish Powerball 3 in 1. L'ultima generazione del pulito insuperabile. Quest'anno la tua estate sarà molto movimentata. Scatta con Kodak Ultra, la pellicola adatta a tutte le condizioni di ripresa. Telefona e puoi vincere una Toyota Yaris Verso alla settimana. Scatta con Kodak. Scappa con Yaris Verso. Sparisci! Bello il mago di papà! Buongiorno, vorrei un po' di mezzelune. Subito. Aubada, Merlino. Bro. Ma no, queste, queste Auricchio. E quante? Tutte, sono così comode, le porto in tournée. Pure questa, se le ru. Simpatico. Prendo un sacchetto e le presento mia suocera. Mi fai vedere come fai? Sparisci! Hai visto? Montes! Ma va, sparisci! Auricchio, se non lo vedi, non ci credi. Stai attento, eh. Sveglia la tua voglia di festa. Con Franza SMS! Messaggio a tanti amici contemporaneamente con un solo SMS. E se i tuoi amici hanno un numero Omnitel, fino al 15 ottobre, 100 SMS al giorno, sono gratis. Da Omnitel Vodafone. Oggi, come ieri, come domani, come sempre, io ritroverò quel bacio. È Liana, un classico dell'amore. Tutti i romanzi di Liana. Il primo è in edicola a sole 4.900 lire. I grandi romanzi di Liana. La grande scrittrice dei classici dell'amore. Nuova Drer Infrancibile Ci sono novità! Per i più piccoli è nato Pampers New Baby, l'unico pannolino cattura VV. E da oggi arrivano anche le nuove confezioni di Pampers. Micro, New Baby, Premium e Playtime. Pampers, cresce con loro. Il nuovo Deo Crema di Infasil mi protegge con dolcezza. È clinicamente testato per regolare la sudorazione. E mi sento più fresca che mai. Deo Crema è il nuovo deodorante della linea Infasil. Infasil, un grande istinto di protezione. Era così piccolo, così delicato. E come allora, ancora oggi tuo figlio per crescere ha bisogno di un'alimentazione nutriente e sicura. Dalla ricerca Mellin e da pascoli selezionati, l'omogenizzato di carne ad alto valore nutrizionale è rigorosamente controllato. Così potrai far crescere il tuo bambino forte e sano. Mellin, con te fin dai primi giorni. L'arte del filet è tricottare, confezionare, rifinire. L'arte del filet è casa, bambini, curiosità, piccoli lavori, motivi da copiare. Un'opera nuova e creativa con utilissimi cartamodelli quadrettati. L'arte del filet, in edicola da Hobby & Work e Mava. Qualità senza risparmio o risparmio senza qualità? Scegli Sole Marsiglia. Nasce dal sapone sole. Ed è una linea che ha proprio tutto. Che pulito naturale! E su tutti i capi! Senza spendere la fortuna! Non lascerà più. Riso Flora, per ogni tuo piatto il sapore che lo scuoce. Scegli Sole Marsiglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti